Un doppio colpo in trasferta per dare un segnale preciso al campionato e possibilmente riprendersi la vetta è l'obiettivo del Foggia che nelle prossime due sfide lontano dallo Zaccheria contro Andrea e Messina cercherà di avviare un vero e proprio filotto di vittorie per dare sostanza al rush finale di campionato. De Zerbi preferisce ovviamente guardare ad un avversario alla volta sabato ad Andrea sarà una vera e propria battaglia al cospetto di un avversario che cerca punti salvezza e vuole togliersi lo sfizio di complicare il cammino dei rossoneri. Al Degli Ulivi si giocherà senza tifosi foggiani ai quali è stata vietata la trasferta così come d'altronde accadde alla tifoseria andriese in occasione del derby vinto all'andata all'ultimo respiro dal Foggia. Proseguono gli allenamenti nel quartiere generale di Amendola dove ieri a distanza di tempo le porte sono tornate ad aprirsi ai giornalisti. Prove mischiate quelle del tecnico e nessuna indicazione sugli uomini che partiranno titolari tra due giorni. Chi scalpita è Marcello Quinto, il centrocampista è ormai pienamente recuperato e si candida a dare un apporto importante in questo finale di stagione.